Sono tornato dentro il centro commerciale per fare un altro po' di shopping Ed effettivamente sì, dovevo comprare ancora un paio di pantaloni di colori giusti Con tutti i soldi che ho non ho ancora visto che macchine posso comprare Ho 78.000 dollari, vediamo se posso comprare qualcosa C'è la Superior a 60.000, bella, ma sinceramente non ne vale la pena Comprare una macchina, tanto vale rubarla Anche perché a questo punto con questi 78.000 dollari c'è rimasta una sola casa da acquistare Che dovrebbe essere qua Se dopo riusciamo andiamo a prenderla Fermi un attimo, questa è la casa di Benjamin King Quella che abbiamo preso alla fine, quando abbiamo fatto tutto quanto dei King Sì, ma secondo me non si può più entrare Infatti l'hanno chiusa, no, che peccato E ovviamente questo è territorio Ronin, guarda un po' Giustamente i King erano gialli, i Ronin che colore sono? Gialli anche loro Credo di aver capito una cosa comunque della tipologia di gang che ci sono qua in Centro 2 Allora, in Centro 2 i Sons sono quelli che spacciano droga e quindi ci guadagnano I Ronin sono quelli che hanno i soldi e quindi cercano di accaparrarsi un po' tutto Un po' la mafia di questo posto Mentre infine i Brotherhood sono quelli cattivi, quelli che menano soltanto Perché c'è qualcosa che va a fuoco lì? Ah hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro 2 a parte gli scherzi Benvenuti in questa nuova puntata Eccoci arrivati a casa di Get Oh, sai che novità Ah, bene Ma dai, il tavolino Purtroppo è vero Non l'avrei mai detto Eh, immagino Andiamo a scoprirlo allora Come il matrimonio cambia gli uomini, è vero Fermo è Ronin prima nel nascondiglio dei Saints Oh santo Dio, di nuovo Ah, una missione Ma perché c'ho il mitra scaccione? Ma porca puttana Probabilmente perché in questa missione ti danno il mitra infinito, eh Per carità Merda Ah, un'azione Uh, una moto è andata, benissimo Merda Merda, il pallo della luce Merda Si sono separati Ottimo Merda Ah Ecco fatto Stronzetto ucciso Cazzoni Maledetti Aspetta che Merda Fermo Ah, maledetta crociera Velocità di crociera Del Cazzo Ecco fatto Le rinforzi al centro Ah, benissimo Quindi Non solo avevo Questo gruppo Che stava arrivando Ne arriva un altro ancora Vi prego Non dividetevi in gruppo come prima Benissimo Una moto E' andata Una porca troia Stupida limusine Dai, dai Tirati su Tirati su Che già ci vuole un'eternità Per quando cadi qua Tirati su Limusine di merda Ecco fatto Un altro è andato Calmo, calmo Ste moto Ma porca puttana Mamma mia Ma che peso Ma vai via Ma che volete da me Ma fattene Ci mancava solo La polizia Dove è andato Lo stronzo Bene Io contro il muro Ecco dove sono andato Guardalo che lo vedo Poco poco Ma ho visto la freccia Eccolo Maledetto Sta polizia di merda Però è Ai Ma perché Poi perde il controllo La moto E' terribile Da guidare E' quasi a nascondiglio Ma va E' da solo Potrebbero ammazzarlo Anche i miei compagni Merda Dovuto rifare Tutta la missione Per colpa di una Cazzo di limusine In una macchina La polizia Che mi è venuta Addosso Ma ti pare Eccoli di nuovo qua Maledetti Maledetti Ecco fatto Uno è andato Due è andato Ecco gli altri che arrivano Preso Eccoli di nuovo assieme Tutti quanti Ecco uno è andato Uno si sta avvicinando Ecco fatto Morto Ne mancano solo Due Ma perché Ste missioni sono fatte apposta Secondo me Sono fatte apposta Per essere una merda Ovvero ogni volta Che stai per passare Ti passa davanti Un cazzo di macchinone gigante Le fanno apposta Per essere così Fastidiose Prima la limusine Poi sto forgone Poi la macchina Della polizia Voglio dire Sparami in faccia E fai prima no? E vabbè ma dai Non è plausibile Scusami eh Vabbè è morto Per qualche modo È morto Sarà stata una macchina L'ha schiantato Beh questo è vero Ma dai Dentro l'umido Ovviamente Mamma mia Le missioni In cui devi guidare E sparare Le ho sempre odiate Dai tempi di GTA San Andreas Che non le sopporto Ste missioni Perché devi fare attenzione A troppe robe Devi stare attento Alla guida Quindi alla velocità Al traffico Quindi i vari pericoli Che ti metto davanti Ti posso rallentare A sparare con la precisione All'obiettivo Sempre odiate Sempre state sul cazzo Auto delle gang personalizzate Uh nuove macchine Benissimo E dove sono io Molto troppo lontano Dalla casa Che volevo comprare Va bene Sta casa La compreremo Quando faremo Le missioni Dei Brotherhood Che tanto Questo è territorio loro Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti